Noi a Teramo andiamo per vincere, ahimè dobbiamo vincere perché sennò non abbiamo fatto nulla quindi loro grande squadra, noi siamo una grandissima squadra, grande gruppo, grandi giocatori anche nei momenti di difficoltà oggi abbiamo cacciato gli artichi quindi mercoledì andremo lì per portare a casa la qualificazione La mentalità e il carattere della squadra viene sempre fuori, si vede anche nelle partite col Teramo comunque dal mio punto di vista è stata dominata la partita, anche col Certosa 2-0 parlando con i compagni in campo si vedeva che potevamo fare qualcosa di più secondo me con un pizzico di consapevolezza in più possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati Sulla gara di mercoledì? Sulla gara di mercoledì ce la andiamo a giocare, andiamo a giocare a viso aperto il Teramo è una grande squadra, noi siamo una grandissima squadra che venga il migliore E ci saranno tanti tifosi al seguito? Io lo spero, lo spero e quindi li aspettiamo a Teramo Comba, lo sai che ti ha famo tu, ti devi iscrivere al canale i Biancorossi su Youtube E' bello non è?